Anche quest'anno, come di consueto, la città di Pozzuoli ha ricordato assieme ai suoi cittadini l'importanza della festa della donna. La celebrazione dal titolo Fortissimamente Donna è stata organizzata dall'assessore alle politiche sociali e pare opportunità Lidia Di Simone, la quale ha sottolineato l'importanza del concetto di rivoluzione culturale a partire dalle scuole, insieme a Luisa Di Simone, assessore all'istruzione. Una giornata per celebrare la donna e le sue conquiste. Il messaggio però che volevo dare era questo, oltre alla parte della tutela normativa, ad approfondire quello che è il passato, oggi credo che sia necessaria una rivoluzione culturale che parta dalle scuole, quindi educare al rispetto della differenza di genere. Ecco perché con la collega all'istruzione abbiamo deciso di far partecipare le scuole a questa giornata. Noi stiamo avviando proprio una linea di programmazione di interventi proprio in questo senso, è necessario sensibilizzare ed educare i bambini già da piccoli a queste tematiche. Oggi con la loro presenza qui testimoniano con i loro lavori come sono maturi, come sono sensibili verso appunto questo problema, questa tematica della donna e del rispetto della donna. L'evento ha visto la partecipazione di diverse associazioni puteolane a partire da domenica 6 marzo, con la terza giornata rosa, durante la quale si è potuto visitare il tempo di essere rapide accompagnati dalle ragazze dell'Associazione Diversamente Giovani, promosso in collaborazione con l'assessore alla cultura Alfonso Artiaco. La giornata dell'8 marzo invece è stata un susseguirsi di riflessioni, confronti, flash mob, canti, danze e visite culturali. Le varie iniziative hanno avuto luogo al Rione Terra, all'interno del Palazzo Migliaresi, a partire dalle ore 10, con la presentazione e distribuzione ad un prezzo simbolico del calendario da marzo a marzo da donna a donna, nato dall'idea del cittadino appassionato di fotografia Achille Troise, il cui ricavato sarà utilizzato per future iniziative a sostegno di donne vittime di violenza. Lo scopo è quello di rivalutare l'immagine della donna in modo positivo, come spiega l'artista stesso. L'idea nasce da alcune foto per rivalutare l'immagine della donna in modo positivo. Molte volte vediamo le donne sfruttare l'immagine con scene e mi sono adoperato per lanciare un nuovo tipo di messaggio in cui la donna può semplicemente esprimersi. Come hai fatto a scegliere le donne da fotografare? Le donne sono state scelte dalla Commissione per l'opportunità del Comune di Pozzuoli, con delle linee guida, donne che si sono realizzate nella vita, che si sono emancipate e che si sono realizzate sia nella vita che nel lavoro e si sono affermate nella loro professione. Hanno poi fatto seguito lo spettacolo messo in scena da un gruppo di bambini in rappresentanza degli istituti comprensivi del territorio e ancora balletti incentrati sul tema del femminicidio e momenti di riflessione tra professionisti impegnati sul tema della differenza di genere come l'Avvocato Nunzia Nigro. Abbiamo toccato dei punti salienti. Il momento culturale va comunque approfondito perché in realtà occorre fare rete tra le istituzioni. Istituzione scuola, istituzione amministrativa, istituzione politica, istituzione che messaggio un problema fondamentale che è quello che le donne comunque oggi anche in una società emancipata hanno necessità di essere accompagnate in un percorso culturale perché non si parla più di parità di genere ma di diversità. Quindi l'auspicio è quello che sia gli uomini che le donne facciano insieme un percorso di dignità e di rispetto. La mattinata si è poi conclusa, come da tradizione, con la posa di mimose ad opera del maestro Antonio Sabettini alla lapide in onore delle donne putiolane schierate in difesa della pace. Durante il resto della giornata hanno avuto luogo momenti di lettura dei brani della scrittrice Maria Rosaria Selo e di pittura con le donne dell'artista Sara Tonello e per finire il flash mob intitolato La violenza non ha scuse, non piegarti alla violenza. Grazie. 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 Grazie.